Guardando il film ho davvero avuto l'impressione che fosse qualcosa di a sé stante rispetto all'altro Altrimenti ci arrabbiamo, però ecco mi piacerebbe sapere da Christian proprio pensando anche al nostro a chi ci segue, a chi ci legge, a chi ci guarda e che si chiede ma che rapporto c'è tra i due film secondo te che cosa lo rende un film autonomo rispetto all'altro Altrimenti ci arrabbiamo e cosa lo rende un film buono, valido? Beh, Bud Spencer e Terence Hill sono un cult, no? Sono quei fenomeni che capitano ogni tanto come Frank e Ciccio, come Boldi e Christian e così c'era Bud Spencer e Terence Hill poi drammaturgicamente era quello che era, erano girati anche con pochi soldi mentre la differenza è che questo è un film dove la Lucky Red ha speso dei soldi per fare un film che a me quando l'ho visto sembrava un film americano e anche perché poi è girato da due registi giovani che hanno una cultura cinematografica molto forte forse più di quei vecchi registi di una volta, sono girati meglio questi film poi chiaramente qui era Bud Spencer e Terence Hill però qui ci sono due attori giovani, brevissimi, attori veri e quindi in questo cambia e poi a parte il titolo e la Dune Buggy il resto è tutto diverso come si sono approcciati anche ai personaggi Bese l'ha fatto suo, quel personaggio e lui l'ha fatto suo e io ho fatto un cattivo loro sono i protagonisti del film io faccio una particina che insieme a mio figlio che è Francesco Bruni facciamo un padre e il figlio dei cattivi della situazione ma parliamo sempre di una favola voi siete amici nella vita reale è molto bello il rapporto che c'è tra i due protagonisti del film e tutto poi si risolve davanti a un piattone di salsicce e a due birre allora mi piacerebbe sapere com'è il rapporto tra di voi non so, ci sono dei ruoli e poi qual è il vostro piatto di salsicce la cosa che proprio vi accomuna, vi unisce che vi fa entrare di più in comunicazione vabbè noi ci conosciamo già da dai tempi di romanzo criminale che state a dire, state a piangere? no, non ci permetteremo mai che ci accomuna beh, noi io ho avuto occasione di diventare più amico di Alessandro anche grazie a questo film perché ci siamo sempre sentiti c'è sempre stato un'amicizia però insomma non ci vedevamo così spesso quindi questo film è stato un'occasione anche per diventare più stretti poi penso che si vede comunque che c'è un'alchimia anche sul film che siamo amici che c'è una sorta di amore e odio però l'abbiamo tirato fuori lì ecco che c'è a comune non so qual è il piatto ma sicuramente è una cosa che a noi ci piace quando ci mettiamo a fare le chiacchiere sui libri sui cose che ha letto Edo mi faccio consigliare quello che ha visto io dico avere questo scambio di informazioni non è vero, non è vero lui fa così questo tipo di rapporto lui fa così è proprio il contrario di quello che dice in realtà è un grande lettore spesso mi consiglia dei libri interessanti non è vero ed è questo un po' il rapporto che abbiamo io faccio così ed è cresciuto durante il film e credo che il piatto che ci accomuna è un po' questo la voglia un po' di scoprire delle cose nuove un po' di confrontarci no? ho detto una fregnaccia? no io pensavo alla matriciana lui il pesce mi piace io porto sempre al ristorante a mangiare bene ad ordino mio esatto mi piacerebbe sapere qualcosa sul lavoro che avete fatto anche da un punto di vista fisico non soltanto se appunto per dare calci, pugni perché comunque ci sono tanti calci cioè ero più magro del film prima di iniziare quindi ho detto di ingrassare e ho fatto quindi volevo sapere se avete proprio preso come si fa sì abbiamo fatto due mesi di allenamenti di prove con Emiliano Novelli e il suo staff che sono tutti i ragazzi che hai visto nel film il capo degli stuntman sì il capo stuntman io lo conosco da quando è ragazzito penso no perché è vero perché volevo sapere anche proprio nei movimenti perché siccome poi ci sono a un certo punto voi vi muovete allora quando uno dà un pugno poi a un certo punto si vede la vignetta insomma penso ci fosse da fare anche proprio un lavoro sulla mimica e sul corpo molto particolare per essere un po' così però comunque credibili beh insieme agli Yunaz abbiamo scelto dei codici non abbiamo parlato come il famoso cazzotto che è da Edo il piccione abbiamo creato appunto quello è uno solo però come cifra poi abbiamo prima ci siamo preparati con le coreografie appunto con Emiliano Novelli quindi abbiamo prima settato tutto e poi all'interno abbiamo provato a caratterizzarlo con quello che veniva un po' da quell'idea di un certo tipo di cinema di cazzotti, pugni e rizze divertenti e metterlo nella nostra contemporaneità nei nostri personaggi